Sapete cosa fa un cammello su un budino? Attraversa il dessert. Cosa fa un poliziotto con un computer? Arresta il sistema. Qual è l'insetto che arriva sempre primo? La pulce, perché sta sempre in testa. E ciao a tutti ragazzi, sono Zavorg e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, continuiamo con i video della battaglia dell'alleanza. Oggi andiamo a vedere il terzo. Utilizzeremo nella modalità supereroe universali Nova. E come al solito, non dimenticatevi di mettere un like. Arriviamo a 40 like per il prossimo video. Mi raccomando ragazzi, mi state supportando, continuate a farlo. E per chi non si è ancora iscritto, iscrivetevi al canale. Ora vi lascio il video, ci vediamo dopo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.